Un saluto a tutti voi, vi auguro un buon weekend, siamo in dimostrazione e in consegna car tablet dedicato Fiat 500L, come al solito parliamo sempre di un top di gamma Android 10, 4GB di RAM, ROM 64GB, Apple CarPlay Wi-Fi, Android Auto, DSP recupero funzioni totali auto di cui comandi al volante e setup veicolo perché dalla radio originale è possibile settare le informazioni della macchina accensione luci, portiere e lo faremo anche con questo prodotto e poi un'altra novità che stiamo testando ormai da qualche mese è la gestione vocale car tablet apri la radio, attiva la navigazione, fai partire la musica, apri YouTube e poi ci sono una serie infinite di comandi dove potete impostare tutto comunque adesso andiamo direttamente in manuale questa è la home stazioni in memoria via voce Bluetooth, streaming musicale e poi abbiamo recuperato la USB originale che è sotto e poi in più un'altra USB l'abbiamo messa nel cassetto porto oggetti qui stiamo in gestione video poi possiamo passare tranquillamente in gestione audio qui entriamo nel mondo Android un DSP di alta qualità dove andiamo a elaborare tutto il sound processore velocissimo come state vedendo abbiamo anche lo split screen e poi infine per chi ha la retrocamera la recuperiamo oppure chi non ha la retrocamera la inseriamo noi in questo caso abbiamo la retrocamera non abbiamo la retrocamera originale però abbiamo recuperato i sensori di parcheggio nel momento in cui il cliente vorrà aderire all'offerta retrocamera andiamo a installare la retrocamera ultima cosa, non meno importante il recupero funzioni auto una volta che andiamo a premere dai comandi al volante la gestione vocale entriamo in programmazione e abbiamo una serie di comandi aspettate che adesso vi faccio lo zoom ecco qui e possiamo andare a gestire tutte le informazioni della macchina poi basta tornare sempre indietro e si esce e si ritorna nel menu io vi ringrazio e buon weekend e